Oltre 200 persone al via della prima edizione della Longevity Run, corsa non competitiva di 5 km all'interno della splendida cornice del nursery campus di Pistoia dell'azienda Vannucci Piante. La corsa, una missione del terzo settore del Policlinico Gemelli e l'Università Cattolica di Roma per diffondere il messaggio della prevenzione dello stile di vita. Ieri abbiamo fatto una giornata appunto tutta dedicata alla prevenzione dello stile di vita, ai check up, abbiamo fatto più di 200 check up e quindi 200 persone che sono venute a controllarsi gratuitamente e oggi appunto aspettiamo un numero ancora maggiore per poter fare una corsa, una passeggiata dentro questo splendido parco del Vannucci Piante per stare insieme e per testimoniare a noi stessi e gli altri quanto sia importante la prevenzione e un corretto stile di vita. Sono molto contento perché ieri ci sono state tante persone in questo ambiente direi accogliente quindi questi ragazzi giovani del Policlinico Gemelli hanno un entusiasmo incredibile quindi molto bello io credo i nostri concittadini possano essere contenti e stamattina questa corsa diciamo è un po' il culmine di queste due giornate che proprio vedranno questi cinque chilometri all'interno del nostro parco Nersery Park. Com'è andata? Bene! Almeno c'era il sole, ci siamo divertiti. Bellissima, veramente corsa nel verde, sicuramente da riproporre e riparteciperò senz'altro. Bella, bella, molto bella, interessante soprattutto. È bellissima, sì, me lo dicevano per l'appunto anche loro che si sono divertite tanto. Molto salutare, ottimo per il fisico ma anche per la mente. Da rifare, era tanto che non correvo, è stato bello. Bello, poi in questo ambiente veramente paradisiaco, è stata una bella mattinata di energia. Bella energia, bello, bello. È andata bene, non ho corso perché non sono abituata però fa sempre bene fare una buona camminata nel verde. Il posto è bellissimo, l'organizzazione, la manifestazione è bella, la forma un po' meno diciamo.